14 Lampi e bagliori si levavano dall'orlo superiore del processore morente. Il vapore eruttava dagli sfoghi d'emergenza. Colonne di gas incandescente saettavano per centinaia di metri verso il cielo, mentre i compensatori interni lottavano inutilmente per contenere la temperatura e la pressione. Bishop stava attento a non avvicinarsi troppo alla stazione atmosferica, guidando la navetta verso la piattaforma d'atterraggio del livello superiore. Sorvolarono il carro armato distrutto. Ridotto ad una carcassa immobile davanti all'entrata della stazione, l'APC aveva finalmente smesso di fumare. Ripley lo guardò sparire dietro di loro. Un monumento alla presunzione e ad una fede mal riposta nella capacità della tecnologia moderna di superare ogni estacolo. Presto si sarebbe volatilizzato, insieme con la stazione e il resto della colonia di Adley. A circa un terzo dell'enorme cono che costituiva il processore, si protendeva nel vento una stretta piattaforma. Era progettata per ospitare lance da carico e piccoli veicoli atmosferici. Non qualcosa delle dimensioni di una navetta. Bishop riuscì miracolosamente a manovrare nello spazio ristretto. La piattaforma gemette sotto il peso dello shuttle. Una trave di sostegno si piegò pericolosamente, ma resse. Ripley terminò di avvolgere il nastro metallico attorno al massiccio oggetto che le aveva occupato le mani e la mente negli ultimi minuti. Gettò via quanto rimaneva del rotolo di nastro e rimirò la sua opera. Non era un lavoro accurato e probabilmente violava una ventina di regole di sicurezza militare, ma non gliene importava un accidente. Non stava andando a una parata, né c'era qualcuno nei dintorni a ricordarle quanto fosse pericoloso ed impossibile. Quello che aveva fatto, mentre Bishop li portava vicino alla stazione, era stato di unire il fucile ad impulsi di Hicks con il lanciafiamme. Né era risultato un massiccio e sgraziato ordigno siamese dal potenziale di fuoco tremendo e multiforme. Poteva essere sufficiente a farla tornare indietro sana e salva se fosse riuscita a trasportarlo. Tornò nell'armeria della navetta per riempirsi le tasche ed una borsa di tutto quanto servisse ad ammazzare alieni. Granate, caricatori pieni per fucili e impulsi, nastri di shrapnel, eccetera. Dopo aver programmato la navetta per il decollo automatico, Bishop lasciò la cabina di pilotaggio per tornare da Hicks. Il caporale era sdraiato su una fila di seggiolini, circondato dal contenuto di un pronto soccorso da campo. Lui e Ripley avevano lavorato insieme per fermare l'emorragia. Con l'aiuto della medicazione, il suo corpo stava guarendo. La carne corrosa stava già cominciando a rigenerarsi, ma per ridurre il dolore ad un livello tollerabile era stato costretto a farsi fare parecchie iniezioni che gli avevano appannato la vista e rallentato i riflessi. L'unico appoggio che poteva garantire al folle disegno di Ripley era morale. Bishop tentò di protestare. Ripley, non è un'idea molto efficace. Capisco cosa prova. Lo capisci? Gli chiese bruscamente, senza alzare gli occhi. In effetti sì, fa parte della mia programmazione. Non è razionale sprecare una vita nel tentativo di salvarne un'altra. Lei è viva! Ripley trovò una tasca vuota e la riempì di granate. L'hanno portata qui proprio come hanno fatto con tutti gli altri. E tu lo sai? Sembra logico da parte loro, sì. Ammetto che non c'è alcun motivo valido per cui abbiano deviato dal loro modello di comportamento. Non è questo il punto. Il punto è che anche se Newt si trova qui, è improbabile che lei riesca a trovarla, liberarla ed aprirsi la strada per tornare in tempo. In capo, a 17 minuti, questo posto diventerà una nube di vapore vasta come il Nebraska. Lei lo ignorò, richiudendo la borsa strapiena di materiale. X, non lasciarlo partire. Lui amicò debolmente. Il viso contratto dal dolore. Le medicine gli facevano lacrimare gli occhi. Non andremo da nessuna parte. Sei in grado di trasportare quel bastardo? Ripley sollevò la sua arma ibrida. Per tutto il tempo necessario. Si gettò la borsa a tracolla, poi si voltò e corse verso il portello principale. Azionò il comando, attendendo impaziente che il pannello slittasse. Il vento si scagliò all'interno, accompagnato dal rugito del processore morente. Ripley volse un ultimo sguardo indietro. Arrivederci, X. Lui tentò di sedersi, ma non ci riuscì. Rotolò su un fianco. Con una mano si premeva un pezzo di garza sul viso. Dwayne! Mi chiamo Dwayne! Lei tornò indietro e gli strinse la mano. Ellen! Era sufficiente. Hicks annuì e si lasciò ricadere sul giaciglio, soddisfatto. La sua voce era una pallida ombra di quella che le era ormai diventata familiare. Non metterci troppo, Ellen! Lei inghiottì. Poi si voltò ed uscì, senza guardarsi indietro, mentre il portello si richiudeva le sue spalle. Il vento l'avrebbe trascinata giù dalla piattaforma, se non fosse stata così pesantemente equipaggiata. Nella parete della stazione c'erano le porte di un grosso montacarichi. I comandi risposero immediatamente. Lì c'era un mucchio di energia, troppa energia. L'elevatore era vuoto. Ripley entrò e schiacciò il pulsante di livello C, il fondo. Il settimo girone dell'inferno, pensò, mentre cominciava la discesa. L'elevatore era lento. Era stato progettato per portare carichi pesanti quanto delicati. Appoggiata alla parete posteriore della cabina, Ripley guardava accendersi le spie dei vari livelli. A mano a mano che affondava nelle viscere della stazione, il calore si faceva più intenso. Il vapore mughiava dappertutto, rendendole difficile respirare. La lentezza della discesa le diede il tempo di togliersi la giubba ed indossare l'armatura direttamente sulla maglietta. Con il sudore che l'incollava i capelli sulla fronte e sul collo, fece un ultimo controllo del suo armamento. Si mise a tracolla una bandoliera piena di granate. Innescò il lanciafiamme, accertandosi che fosse carico. Fece lo stesso con il caricatore inserito nella parte inferiore del fucile. Stavolta si ricordò di mettere dentro manualmente la prima granata. Controllò con dita nervose la tasca dei pantaloni in cui aveva infilato i razzi traccianti. Annaspò con una granata non innescata. Le scivolò tra le dita e cadde a terra, innocua. Lei la raccolse tremante e la rimise in una tasca. Malgrado le istruzioni dettagliate di Hicks, si rendeva conto della sua estrema ignoranza in fatto di granate, razzi e roba simile. A peggiorare la situazione, era la prima volta da quando erano atterrati su Acheron che si trovava da sola. Ma non c'era tempo per pensarci. L'elevatore stava rallentando. La cabina toccò il fondo con un leggero scossone. La gabbia di sicurezza si aprì. Alzò la doppia canna del fucile e del lanciafiamme, mentre le porte scivolavano di lato. Di fronte a lei c'era un corridoio vuoto. Oltre all'illuminazione d'emergenza, un chiarore rossastro emanava dalle spesse pareti di metallo. Il vapore si bilava dalle tubature spaccate, i circuiti sovraccarichi e danneggiati mandavano scintille. Gli agganci gemevano le vibrazioni del macchinario sotto tensione. Lontano, da qualche parte, un poderoso braccio meccanico o un pistone stava facendo carang, carang. Si guardò intorno. Le si erano sbiancate le nocche sotto il peso della duplice arma. Non aveva nessuno schermo da combattimento ad aiutarla, benché con tutto quel calore i sensori ad infrarossi non sarebbero stati di grande utilità. Uscì nel corridoio, in uno scenario disegnato da piranesi e decorato da Dante. Fu conscia della presenza aliena non appena ebbe svoltato il primo angolo del passaggio. Il materiale possidico copriva condotti e tubi, espandendosi verso i passaggi superiori, fondendo insieme macchinari e resina e creando un'unica enorme cella. Ripley aveva legato il localizzatore di X sul lanciafiamme e si sforzava di guardarlo il più spesso possibile. Era ancora funzionante, in grado di individuare i suoi singoli bersagli. Una voce cheggio nel corridoio, facendola sobbalzare. Era calma, efficiente e artificiale. Attenzione! Emergenza! Tutto il personale deve evacuare immediatamente. Adesso avete 14 minuti per raggiungere la distanza minima di sicurezza. Il localizzatore continuava a sondare, segnalando con i suoi LED la distanza e la direzione. Ripley si asciugò il sudore che le colava sugli occhi, continuando ad avanzare. Il vapore turbinante rendeva problematica la visibilità in ogni direzione. Le luci d'emergenza illuminavano un altro passaggio che incrociava poco più avanti. Movimento. Ripley girò su se stessa ed il lanciafiamme vomitò il napalm, incerendo un daemone immaginario. Non c'era niente. L'esplosione di calore era stata notata. Non c'era tempo di porsi simili domande. Riprese la marcia, sforzandosi di non tremare mentre si concentrava sui readout del localizzatore. entrò nell'inferno. Le camere interne. Le pareti intorno a lei erano incastonate di forme scheletriche. I corpi degli sfortunati coloni che erano stati portati lì per ospitare gli embrioni alieni. Le figure incrostate di resina brillavano come insetti pietrificati nell'ambra. Il segnale del localizzatore si intensificò, attirandola verso sinistra. Dovete chinarsi per evitare una bassa sporgenza. A ogni curva o incrocio Ripley piazzava sul terreno una torcia accesa per segnare il cammino. Era facile perdersi in quel labirinto. Un passaggio era tanto stretto da costringerla a camminare di traverso. Davanti a lei sfilava una macabra teoria di volti tormentati, contratti in un rectus di agonia. Qualcosa la ferrò. Le si piegarono le ginocchia e le mancò il fiato prima di riuscire a gridare. Ma era una mano umana. Era attaccata a un corpo imprigionato, sormontato da una faccia. Una faccia familiare. Carter Burke. Ripley. Il lamento aveva ben poco di umano. «Aiutami! Me lo sento dentro! Oddio! Si sta muovendo! Oddio!» Lo guardò senza più disgusto ora. Nessuno meritava una cosa simile. «Tieni!» Le dita di Burke si strinsero convulsamente attorno alla granata. Ripley la innescò e fuggì via. La voce della stazione tuonò con una nota di urgenza meccanica. «Adesso avete undici minuti per raggiungere la distanza minima di sicurezza!» Secondo il localizzatore si trovava al centro del bersaglio. Dietro di lei la granata esplose. Lo spostamento d'aria quasi la gettò a terra. fece ecco un secondo boato molto più potente nell'interno della stazione. Una sirena si mise a suonare e l'intera installazione fremette. Il localizzatore aveva captato qualcosa dietro un angolo. Ripley si rigidì in attesa. L'indicatore di distanza era sceso a zero. Il bracciale di Newt giaceva a pezzi sul pavimento del tunnel. La luce del suo modulo di trasmissione era di un verde spettrale. Ripley si lasciò andare contro la parete. Era finito. Tutto finito. Newt aprì gli occhi e cominciò a rendersi conto di quanto la circondava. Era stata imbozzolata in una specie di struttura a colonna, al margine di un grappolo di forme tondeggianti. Uova aliene. Le riconobbe immediatamente. Prima di essere rapiti o uccisi, gli ultimi disperati adulti della colonia ne avevano prese alcune per analizzarle. Ma quelle erano tutte vuote, aperte alla sommità. Queste erano chiuse. In qualche modo l'uovo più vicino alla prigione di Newt si accorse dei suoi movimenti. Premette. Poi cominciò ad aprirsi come un fiore. Qualcosa di umidiccio e coriaceo si agitò dall'interno. Pietrificata dal terrore, vide spuntare delle zampe articolate da aracnide. Uscivano una alla volta. Sapeva cosa stava per succedere. Reagì nell'unico modo che poteva. Nell'unico modo che sapeva. Urlò. Ripley laudì. Si voltò in direzione del grido e si mise a correre. Orribilmente affascinata, Newt vide del mostriciattolo emergere dall'uovo. Si fermò per un attimo sul bordo, raccogliendo le forze e cercando l'orientamento. Poi si voltò verso la bambina. Ripley ruppe nella cella proprio mentre stava per avventarsi. Il dito si tese sul grilletto del fucile impulso. Il proiettile fece a pezzi la creatura rannicchiata. Il lampo illuminò un alieno adulto a pochi passi. Il mostro caricò ma fu catapultato indietro da due colpi di fucile. Ripley si gettò contro di lui sparando all'impazzata con il volto contratto in una smorfia omicida. L'alieno sussultò sulla schiena e lei lo finì con il lanciafiamme. Mentre la carcassa bruciava la donna corse verso Newt. Il materiale resinoso che la avvolgeva non si era ancora completamente solidificato così fu in grado di strapparne via abbastanza da permettere alla bambina di sgusciare fuori. Forza! Ripley levoltò la schiena e piegò le ginocchia. Salta su! Newt le si arrampicò sui fianchi e si avvinghiò al collo. La sua voce era fievole. Sapevo che saresti venuta. Puoi scommetterci finché avevo fiato in corpo. Ok, usciamo di qui. Attaccati bene Newt. Aggrappati meglio che puoi. Mi servono entrambe le mani per usare le armi. Avvertì senza vederlo il cenno affermativo. Ho capito. Non preoccuparti. Non ti mollo. Ripley sentì muoversi qualcosa alla loro destra. La ignorò devastando le uova con i lanciafiamme. Solo allora si voltò ad affrontare l'avanzata degli alieni. Uno quasi la raggiunse. un meteorite vivente che lei stese con due colpi di fucile. Indietreggiò piegandosi sotto una lucente massa cilindrica. Uno strillo penetrante lacerò l'aria coprendo il pulsare dei macchinari morenti e lo squittio degli assalitori. L'avrebbe vista prima se avesse alzato gli occhi invece di precipitarsi a testa bassa nella cella delle uova. E fu meglio così perché che malgrado la sua determinazione avrebbe perso la forza di agire. Gigantesca apparizione nella foschia rosata la regina aliena sovrastava il suo grappolo di uova come un enorme scintillante buddha in settiforme. Il teschio irto di zanna era l'incarnazione dell'orrore. Sei arti due gambe e quattro braccia armate di artigli sporgevano grotescamente da un addome dilatato. Gonfio di uova comprendeva un grosso sacco tubolare sospeso all'intrico di tubi e condutture mediante una membrana come se un lungo tratto di intestino fosse stato drappeggiato tra i macchinari. Ripley si rese conto di essere passata sotto il sacco un momento prima. Dentro il recipiente addominale innumerevoli uova ribollivano verso un uovo oppositore pulsante come in una disgustosa catena di montaggio. Qui emergevano luccicanti e viscide per essere raccolte da minuscoli fuchi. Quelle versioni miniatura dei guerrieri alieni correvano avanti ed indietro per soddisfare i bisogni delle uova e della regina. Ignoravano lo spettatore umano in mezzo a loro concentrati unicamente nella mansione di trasportare il carico in un posto sicuro. Ricordando la manovra di Vasquez Ripley usò il lanciagranate e fece fuoco quattro volte. Le granate penetrarono profondamente nel leggero sacco ed esplosero riducendolo a brandelli. Uova e tonnellate di materia fetida e gelatinosa sprizzarono sul pavimento della camera. La regina cominciò a squittire come una locomotiva impazzita. Ripley spazzò intorno con il lanciafiamme bruciando metodicamente tutto quello che le capitava sott'occhio mentre indietreggiava. Le uova si accartocciavano nel fuoco infernale. Le figure dei guerrieri e dei fuchi svanivano. La regina torreggiava sulla carneficina lottando con le fiamme. Due guerrieri aggredirono Ripley. Il fucile impulsi scattò a vuoto. Con un gesto automatico gettò il caricatore e ne inserì un altro. Poi tirò il grilletto. Gli assalitori scomparvero in un uragano di fuoco. Non aveva importanza che si muovesse o meno. Ripley distruggeva tutto quanto non aveva un aspetto completamente meccanico mentre correva verso l'elevatore facendo a pezzi apparecchiature e strumenti insieme con gli inseguitori alieni. Era semi accecata dal sudore e dal vapore ma i razzi che aveva distribuito lungo il percorso brillavano come gioielli in mezzo alla devastazione. Le sirene urlavano e la stazione era scossa da convulsioni interne. Sorpassò quasi uno dei razzi si arrestò con uno scivolone e tornò verso di esso. Barcollava come in sogno i polmoni al limite della resistenza iperventilata al punto che le sembrava di volare sul pavimento metallico. Dietro di lei la regina si era staccata dal sacco delle uova strappandolo via dall'addome raddrizzatasi sulle gambe grosse come le colonne di un tempio si lanciò all'inseguimento travolgendo macchinari bozzoli fuchi e tutto quanto incontrava sul suo cammino. Ripley ripuliva con il lanciafiamme il corridoio davanti a lei sparando fiammate ad intervalli irregolari bruciando i tunnel laterali a mano a mano che li incrociava per evitare di essere assalita di sorpresa. Quando lei e Newt raggiunsero il montacarichi il serbatoio dell'arma era vuoto. La cabina usata per la discesa era stata demolita dal crollo dei detriti schiacciò il bottone di chiamata dell'elevatore a fianco il motore entrò subito in funzione e la seconda gabbia iniziò la sua lenta discesa dai livelli superiori. Uno strillo infuriato la fece voltare una lontana forma lucente simile ad una gru in corsa stava lottando per aprirsi la via attraverso tubature e condotti. il cranio della regina strisciava contro il soffitto Ripley controllò il fucile a impulso il caricatore era vuoto e non ce n'erano altri di ricambio aveva sprecato troppe munizioni durante il salvataggio di Newt finite anche le granate gettò via la doppia arma inutilizzabile felice di essersi liberata del peso la gabbia scendeva troppo lentamente nel muro di fianco le trombe dei montacarichi c'era una scalapioli Ripley si arrampicò su per i primi gradini nel pozzetto sulla sua schiena Newt era leggera come una piuma mentre si infilava nel sifone un potentissimo braccio nero saettò attraverso l'arco della porta come un pistone gli artigli affilati come rasoi colpirono il pavimento a pochi centimetri dalle sue gambe affondando nel metallo da quale parte poteva andare adesso? Ripley non aveva più paura doveva concentrarsi su troppe cose per lasciarsi prendere dal panico ecco una scala che attraverso un pozzo aperto conduceva ai livelli superiori il metallo ondeggiava e vibrava mentre l'immensa installazione cominciava ad andare a pezzi sotto di loro il pavimento si deformò qualcosa di incredibilmente poderoso si stava lanciando follemente contro la parete gli artigli e le zanne perfurarono le spesse piastre di lega adesso avete due minuti per raggiungere la distanza minima di sicurezza informò la voce lugubre della stazione Ripley cadde battendo un ginocchio contro le scale il dolore la costrinse a fermarsi mentre riprendeva fiato il motore del montacarichi riprese a ronzare lei guardò giù attraverso la struttura aperta dell'edificio la gabbia dell'elevatore stava salendo c'era una sola ragione per cui aveva ripreso la sua ascesa finalmente raggiunsero la porta che conduceva la piattaforma d'atterraggio di livello superiore sempre con Newt a cavalcioni spalancò la porta con un calcio ed eruppe nel vento nel fumo la navetta non c'era più Bishop il vento soffocò il grido Ripley scrutava il cielo Bishop Newt emise un singhioso un rumore alle sue spalle l'ascensore stava salendo giamendo per lo sforzo finché fu in vista Ripley indietreggio verso la sottile balaustra che circondava la piattaforma era a dieci piani dal duro terreno sottostante la superficie della palpitante stazione era liscia come il vetro non potevano né salire né scendere non potevano neppure infilarsi in un condotto dell'aria la piattaforma fu scossa da un'esplosione proveniente dalle viscere del processore le travi si incurvarono facendo quasi cadere Ripley con uno schianto metallico una torre di raffreddamento si rovesciò come una sequoia stavolta le esplosioni continuarono i sistemi di sicurezza non più in grado di contenere la reazione al di là della porta l'elevatore si era fermato la gabbia stava cominciando ad aprirsi Ripley sussurrò a Newt chiudi gli occhi piccola la bambina nuì solennemente sapendo cosa aveva in mente l'amica quando mise una gamba oltre la ringhiera avrebbero toccato il suolo insieme rapido e pulito stava già per gettarsi nel vuoto quando la navetta apparve sotto di loro non aveva udito il rombo dei propulsori a causa del vento la passarella di carico si tese verso le due donne come il dito del signore come Bishop stesse riuscendo a stabilizzare la nave nella tempesta Ripley non lo sapeva né le importava dietro di lei risuonò ancora la voce della stazione come l'installazione che serviva il suo tempo era ormai scaduto adesso avete trenta secondi per raggiungere saltò sulla passarella tenendosi aggrappata mentre la struttura metallica rientrava nella stiva della navetta un istante più tardi una tremenda esplosione scosse la stazione l'onda d'urto fece sbandare di lato il veicolo le gambe d'atterraggio si impigliarono nell'intrico formato dalla piattaforma dalla parete e dal passaggio il metallo stridette contro il metallo il groviglio che impediva di trascinare via la navetta nella stiva Ripley si precipitò in una poltroncina tenendo in braccio Newt mentre allacciava le cinture a entrambe in fondo al corridoio riusciva a scorgere la carlinga con Bishop che lottava con i comandi nella piccola nave cheggiò il rumore delle gambe d'atterraggio che venivano liberate e fatte rientrare Ripley fece scattare la fibbia della cintura di sicurezza e circondò Newt con le braccia frusta i cavalli Bishop l'intero livello inferiore della stazione svanì in una palla di fuoco il terreno si sollevò eruttando verso il cielo una lava di terra e metallo vaporizzato i propulsori della navetta ruggirono a piena potenza l'accelerazione schiacciò le due passeggere contro lo schienale nessuna confortevole graduale entrata in orbita stavolta Bishop teneva i motori al massimo aprendosi la via nell'atmosfera avvelenata la schiena di Ripley protestava anche se lei mentalmente incitava Bishop ad aumentare la velocità mentre passavano dall'azzurro al nero le nuvole si illuminarono sotto di loro una bolla bianca di gas incandescente scoppiò attraverso la troposfera l'onda d'urto dell'esplosione termonucleare scosse la nave ma non produsse danni continuarono ad arrampicarsi verso l'orbita all'interno della scatola metallica Ripley e Newt assistevano da un oblò alla devastazione poi la bambina si accasciò sulla spalla di Ripley e cominciò a piangere silenziosamente lei prese a cullarla accarezzandole i capelli è tutto a posto piccola ce l'abbiamo fatta è tutto finito davanti a loro la goffa mole della sulaco stazionava nell'orbita geosincronica attendendo il rientro della sua minuscola prole ad un ordine di bishop la navetta salì finché gli uncini da tracco fecero presa sollevandola nella stiva i portelloni esterni si chiusero le luci automatiche lampeggiavano nel grande scompartimento deserto una sirena di avvertimento smise di mugire il calore dei motori fu assorbito mentre la stiva cavernosa si riempiva d'aria ripley si era inginocchiata di fianco ad x sembrava in coma bishop si materializzò le sue spalle e lei lo guardò con aria interrogativa gli ho fatto un'altra iniezione per il dolore insisteva a dire di non averne bisogno ma non ha fatto resistenza strana cosa il dolore ancora più strana per me quella particolare categoria di umani che pretende che il dolore non esista a volte sono contento di essere un sintetico dobbiamo trasportarlo nel reparto medico della sulaco replicò ripley alzandosi tu lo prendi per le braccia ed io per le caviglie bishop sorrise adesso sta riposando comodamente sarebbe meglio se lo scuotessimo almeno possibile e lei è stanca anch'io sono stanco se è per quello sarà più semplice se ci procureremo una barella ripley esitò guardando x poi annui hai ragione certo presa in braccio newt precedette le androide nel corridoio che portava la passerella sarebbero tornati da x con una barella semovente in pochi minuti bishop continuò a parlare mi dispiace di averle fatto prendere un colpo quando è uscita sulla piattaforma e non ha trovato la navetta ma il posto era diventato troppo instabile temevo di perdere il veicolo se fosse rimasto attraccato era più semplice e sicuro volare nei paraggi vicino al suolo il vento non è così violento ho tenuto tutto il tempo l'uscita sotto controllo monitor in modo da sapere quando lei sarebbe arrivata avrei voluto saperlo allora lo immagino e l'ho lì a volteggiare da sperare che le cose non si mettessero troppo male per raccoglierla in assenza di direttive umane ho dovuto affidarmi al mio giudizio conformemente alla mia programmazione mi dispiace se non mi sono comportato nel modo migliore erano a metà della passarella Ripley si fermò e gli mise una mano sulla spalla fissandolo negli occhi artificiali sei stato bravissimo Bishop beh grazie io lasciò la frase a metà aveva intravisto un luccichio con la coda dell'occhio niente in realtà un'innocua goccia di liquido era caduta sulla rampa ai piedi del sintetico condensa dall'involucro della navetta la goccia cominciò a sibilare e a corrodere il metallo acido qualcosa di aguzzo lucente esplose dal centro del suo petto spruzzando Ripley con il fluido latiginoso dell'androide il pungiglione alieno l'aveva colpito alla schiena trafiggendolo Bishop vibrò emettendo sconnessi rumori meccanici afferrando la punta della culeo che lo stava lentamente sollevando dalla passerella la regina si era nascosta tra i meccanismi di atterraggio le piastre atmosferiche che di regola tenevano uniti i supporti esterni al resto della navetta erano state piegate o strappate via si era mimetizzata perfettamente in mezzo al pesante macchinario finché non aveva cominciato ad emergere con le enormi mani spezzò in due Bishop e gettò i tronconi da parte gli arti scuri riflettevano la luce dei lampeggiatori di emergenza scese lentamente sul ponte fumando ancora dove Ripley l'aveva ostionata l'acido stillava da ferite minori che si stavano rapidamente cicatrizzando i sei arti si schiudevano in una geometria non umana superando la paralisi Ripley mise a terra Newt senza distogliere gli occhi dall'incubo scappa Newt si precipitò verso il più vicino cumulo di casse da imballaggio ed equipaggiamenti l'alieno scese sul ponte e si girò in quella direzione arretrando Ripley si mise ad agitare le braccia a gridare a fare smorfi a saltellare su e giù facendo quanto poteva per distogliere l'attenzione del mostro dalla bambina l'azione diversiva ebbe successo il gigante ruotò su se stesso incredibilmente rapido per essere così enorme e balzò verso Ripley la quale si mise a correre verso la grande porta del magazzino che si apriva in una parete della stiva passi mostruosi rimbombavano le sue spalle superata la soglia girò l'interruttore succhiuso la barriera reagì al comando molto più velocemente delle porte della stazione atmosferica un colpo tremendo e che già nel magazzino quando l'alieno urtò un istante troppo tardi contro la robusta parete Ripley non aveva il tempo di accertarsi se la porta avesse retto attraversò di corsa un dedalo di enormi forme scure cercandone una in particolare all'esterno un movimento aveva distolto l'attenzione della regina dal baluardo metallico una rete di canali protetti da pesanti griglie si ramificava sotto il ponte simili ai tributari di un bacino fluviale i canali erano abbastanza profondi da permettere a Newt di entrarvi si era calata attraverso un'apertura di servizio e aveva cominciato a strisciare verso l'estremità opposta della stiva come un coniglio nella sua tana l'alieno captò il movimento gli artigli si abbassarono strappando via un pezzo di grata proprio dietro la bambina Newt si mise a correre più in fretta disperatamente mentre un altro pezzo di griglia spariva sopra la sua testa il prossimo colpo sarebbe stato diretto contro di lei il mostro si fermò di botto la pesante porta del magazzino si era aperta con un cigolio sulla soglia apparve una poderosa sagoma articolata cavalcando due tonnellate di acciaio temperato Ripley balzò fuori con la sua caricatrice le mani erano serrate sui comandi i piedi in alloggiamenti collegati e comandi posti sul fondo della cabina indossando l'apparecchio come un'armatura ad alta tecnologia avanzò verso la regina i pesanti piedi meccanici rimbombavano sulle piastre del ponte il volto di Ripley era una maschera di furore materno senza traccia di paura allontanati da lei brutta puttana la regina emise uno stridore in umano e caricò Ripley compì con il braccio un movimento tutt'altro che comune per le normali attività delle caricatrici ma l'elegante macchina reagì perfettamente un poderoso braccio meccanico percossa il cranio dell'alieno a sbattere contro una parete la regina si riprese subito e caricò di nuovo solo per buscarsi un manrovescio del peso di una tonnellata cadde di schiena su una pila di grossi macchinari da carico fatti sotto Ripley aveva un ghigno satanico fatti sotto maledetta con la coda sferzante d'ira la regina attaccò per la terza volta quattro bracci biomeccanici afferrarono i due della caricatrice il grosso culeo pugnalò i fianchi e la parte inferiore della macchina rimbalzando sul solido metallo Ripley parava e colpiva rapidamente con i rebbi d'acciaio indietreggiando avanzando e ruotando per tenere sempre i bracci tra lei e la regina la lotta si spostava lungo il ponte demolendo casse da imballaggio strumenti portatili piccoli macchinari la stiva eccheggiava del rumore da incubo di una battaglia all'ultimo sangue tra due draghi afferrato un paio di bracci alieni con le mani meccaniche Ripley strinse con tutta la forza le proprie dita dentro i comandi spezzando gli arti del mostro la regina reagì all'oltraggio gli artigli superstiti furono a pochi centimetri dal penetrare la gabbia di sicurezza per straziare il minuscolo essere umano Ripley alzò le braccia sollevando la regina dal ponte il motore protestava per il peso eccessivo le gambe posteriori scalciarono contro la gabbia che proteggeva l'operatore il cranio si inclinò verso la donna e le fauci cominciarono a spalancarsi Ripley si aggrappò ferocemente ai comandi le terribili zanne saetarono verso di lei si piegò ed i denti affondarono nell'imbottitura dello schienale in un'esplosione di bava gelatinosa l'acido giallastro schiumò sui bracci meccanici scivolando verso la cabina la regina aveva spezzato i tubi ad alta pressione il fluido purpureo sprizzò in tutte le direzioni il sangue della macchina mischiato al sangue dell'alieno persa la pressione idraulica da un lato la caricatrice si piegò da una parte e cadde la regina rotolò immediatamente su se stessa per montarci sopra evitando i micidiali bracci metallici e cercando una via per penetrare la gabbia di sicurezza Ripley premette un pulsante sul cruscotto per accendere la fiamma ossidrica la fiammata azzurra colpì in pieno la faccia dell'alieno strillò e cadde all'indietro trascinandosi appresso la caricatrice nonostante fosse a testa in giù Ripley era trattenuta saldamente al sedile dalla cintura di sicurezza insieme la macchina l'alieno e l'umano rotolarono nel pozzo retangolare della camera di compensazione la caricatrice atterrò sul mostro spezzandogli parte del torso ed inchiodandolo sotto il proprio peso l'acido cominciò a uscire in un rivolo dal corpo orribilmente ferito Ripley sbarrò gli occhi il liquido stava finendo sui portelli della camera di compensazione e il metallo cominciava a fumare al di là del portello esterno c'era il vuoto quando apparvero i primi fori lottò per districarsi dal sedile di guida l'aria stava iniziando ad abbandonare l'assulaco risucchiata dalla vacuità insaziabile dello spazio una folata di vento sferso Ripley mentre saltava fuori dalla caricatrice evitata una pozza di acido fumante si aggrappò ai pioli inferiori della scaletta costruita nella parete della camera d'equilibrio con una mano azionò il comando d'emergenza della porta interna più sopra i pesanti pannelli cominciarono a scorrere l'uno verso l'altro come mascelle d'acciaio si arrampicò disperatamente i primi buchi si allargavano sotto l'effetto dell'acido il volume dell'aria che fuoriusciva aumentava rallentandole la salita Newt era emersa dalla rete di canali per nascondersi in una foresta di bombole di gas quando la caricatrice Ripley e l'alieno erano precipitati nella camera sottostante era sgattaiolata fuori per vedere meglio ora il risucchio dal basso le aveva fatto perdere l'equilibrio e la trascinava inesorabilmente attraverso la liscia superficie del ponte Bishop o almeno la sua metà superiore la scorse si aggrappò con una mano ad un montante con l'altra si tese finché grazie al suo perfetto sincronismo elettronico riuscì ad agguantare la bambina per la cintura lei rimase appesa a lui nella tempesta sempre più violenta come una bandiera la testa di Ripley fece capolino dal pavimento del ponte mentre cercava dissarsi sollevando la gamba sinistra qualcosa lessiorò la caviglia destra e strinse uno strappo di prova quasi le disarticolò le braccia dalle spalle disperatamente tentò di afferrarsi con entrambe le mani all'ultimo piolo montato una trentina di centimetri più in alto del livello del ponte le porte interne della camera d'equilibrio continuavano a rombare una verso l'altra se non si fosse liberata o fosse discesa entro un paio di secondi avrebbe fatto la fine di Bishop in basso le porte esterne divorate dall'acido gemevano una parte del rinforzo interno cedette intrappolati reciprocamente la caricatrice e l'alieno sprofondarono di qualche centimetro Ripley fu trascinata verso il basso e stava per perdere la presa quando i suoi piedi furono improvvisamente liberi facendo appello a forze che non sospettava più nemmeno di possedere si so sul ponte nel preciso istante in cui le porte si chiudevano con un tonfo sotto di lei la regina aliena lanciò un altro urlo e cominciò ad usare tutta la sua inimmaginabile energia si udì lo stridore metallico della caricatrice mentre il mostro iniziava a scrollarsela di dosso si era quasi liberato quando le porte esterne crivellate dal liquido corrosivo si sfondarono eruttando nello spazio blocchi di metallo bolle d'acido la regina e la caricatrice Ripley si alzò e corse al più vicino oblò gli sforzi della regina erano sufficienti a spingerla lontano dalla gravità artificiale della sulaco senza smettere di strillare e colpire la caricatrice stava lentamente precipitando verso il mondo inospitale che aveva appena abbandonato Ripley assisteva alla nemesi la regina era un puntino sempre più piccolo sempre più indistinto finché fu inghiottita dalle nubi tempestose l'aria turbinava all'interno della stiva mentre i riciclatori della sulaco lavoravano per rimpiazzare l'atmosfera perduta Bishop teneva ancora Newt per mano dal suo torso mozzato spuntavano organi interni artificiali e tubi che sprizzavano scintille le palpebre sbattevano la testa scattava di tanto in tanto contro una spalla i suoi regolatori interni erano riusciti a bloccare l'emorragia di sangue androide impegnando un'azione di contenimento per riparare la tremenda ferita un'incrostazione bianca circondava i bordi dello squarcio quando vide avvicinarsi Ripley abbozzò un sorriso sardonico mica male per un umano recuperò l'uso delle palpebre quel tanto che bastava per rivolgere un'equivocabile strizzatina d'occhio Ripley esitò davanti a Newt la bambina sembrava inebetita mamma mamma sono qui piccola sono qui presa in braccio la ragazzina se la strinse al petto con tutta la forza poi si diresse verso i quartieri dell'equipaggio intorno a loro i sistemi della sulaco ronzavano rassicuranti Ripley raggiunse il reparto medico e tornò nella stiva trascinandosi dietro una barella bishop le assicurò che era in grado di aspettare con l'aiuto della barella caricò delicatamente Hicks immerso nel sonno e lo trasportò all'infermeria l'uomo aveva l'espressione tranquilla soddisfatta aveva dimenticato tutto godendosi gli effetti dell'iniezione di bishop quanto all'androide era adagiato sul ponte con le mani incrociate sul petto e gli occhi chiusi Ripley non poteva dire se era morto o addormentato menti migliori della sua l'avrebbero stabilito una volta tornati sulla terra nel sonno Hicks aveva perso molto della sua virile rudezza da Marine ora sembrava un uomo come tutti gli altri più bello però e certamente più stanco tranne che non era un uomo come tutti gli altri se non fosse stato per lui sarebbe morta e anche Newt soltanto la Sulaco sarebbe sopravvissuta un contenitore vuoto in attesa del ritorno di uomini che non sarebbero mai tornati pensò di svegliarlo poi decise di no in un battibaleno una volta assicuratasi che i suoi segnali vitali erano stabili e che la cicatrizzazione procedeva lo avrebbe sistemato in una delle capsule da ipersonno si voltò ad esaminare la camera del sonno tre capsule da attivare se era ancora vivo Bishop non avrebbe avuto bisogno il sintetico avrebbe probabilmente trovato l'ipersonno frustrante e limitativo Newt la guardò di sotto in su stringeva due dita di Ripley mentre percorrevano insieme il corridoio stiamo per andare a dormire certo Newt possiamo sognare Ripley fissò il faccino e sorrise sì tesoro possiamo sognare tutti e due adesso a a a a a Grazie a tutti. Ciao a tutti ascoltatori, io sono Alessandro di Random Audiolibri. Questo era Aliens, scontro finale, scritto da Alan Dean Foster. Che bello ragazzi, che bello questo libro, questa novelization tratta dal film. Di solito le novelizzazioni o novelization, come le vogliamo chiamare, sono sempre di una qualità un po' sotto la media. Invece questa è stata davvero, davvero entusiasmante. Mi sono divertito un mondo a leggerla. Mi dispiace se all'inizio non avevo ben chiaro, ben memorizzato, che timbro usare per ogni personaggio. Perché inizialmente erano davvero tanti e forse ho anche fatto qualche errore di timbro. Però una volta assestata la storia, credo di avere rispettato la mia coerenza vocale relativa ai personaggi. Io non sono mai stato un enorme fan dei film. Mi piacciono moderatamente, ne riconosco il valore artistico e culturale, ma non sono mai stato un patito. Ho visto tutti i film di Alien dalla quadrilogia iniziale, anche se il quarto film non è piaciuto praticamente a nessuno ed è anche forse considerato non canonico. Io ho visto i due film originali di Predator, ho visto gli Alien vs Predator entrambi e ho visto anche i due film prequel di Alien. Ora, al momento in cui sto registrando, sto organizzando con gli amici per andare a vedere il terzo film prequel della trilogia prequel di Alien intitolato Romulus. E non dico, non sono uno di quelli che dice, ah non vedo l'ora di andare a vederlo, sì, un film carino, molto divertente, fatto bene, però non è che non vedo l'ora di andare. Tutto questo per dirvi che al contrario i libri mi stanno piacendo tanto. Ora, prima di lasciarci vorrei leggervi un po' di curiosità e note del redattore tratte dal libro stesso. Come tutte le navi della saga di Alien, anche quella di questo libro porta un nome che omaggia lo scrittore Joseph Conrad, in questo caso il romanzo Nostromo. Anche la nave più grande, chiamata Narcissus, è un omaggio a Joseph Conrad, in questo caso tratta dal suo romanzo Il Negro del Narciso. Nella traduzione italiana il traduttore non traduce la parola medtech che di solito si usa per indicare le medical technologies, qui invece aveva il significato di infermiera. La figlia di Ripley è fra le più famose scene eliminate dalla versione originale del film, che è stata ripresentata nella versione director's cut. La figlia, che nel film si vede solo in foto, è interpretata dalla famosa attrice francese Jeanne Moreau. Di una presunta storia d'amore fra Ripley e Dallas si è sempre parlato ma non esistono prove. Né il film Alien, né Alan Dean Foster stesso, né il libro Monimon, ne fanno chiara menzione. Acheron è la versione inglese di Acheronte, uno dei due fiumi dell'Ade, il mondo sotterraneo della mitologia greca. Alle rive dell'Acheronte arrivavano anime dei defunti, traghettate da Caronte. La parola inglese terraformers viene qui tradotta con pionieri, mentre nel film viene usato il termine i terraformatori. Il termine terraformazione è stato usato in questo libro esattamente come nel film, al posto di terrizzazione, che invece era usato dal traduttore. Altra citazione da Joseph Conrad è il nome del mezzo denominato Sulaco, che Sulaco è infatti il nome della cittadella portuale del Sud America protagonista del romanzo Nostromo. Nella scena in cui i soldati stanno mangiando e criticando il cibo, Wiersboski dice non mi dispiacerebbe avere un altro po' di quel puntang. Ecco, il puntang è una parola di origine filipina, in dialetto ilocano, che nello slang americano ha assunto il significato di genitali femminili. L'autore però lo usa come nome di un cibo alieno. Sempre Wiersboski dice di aver mangiato del puntang sul pianeta Arturo. Arturo è il nome comune per Alfa Butis. È una gigante rossa che ha una luminosità 180 volte più intensa del sole. L'autore però ha dato il nome Arturo ad un pianeta abitabile. Quando Burke e Ripley parlano dei sintetici, Burke si riferisce al sintetico di Alien 1 come un Cyberdean Systems 120A2. In realtà nel film la marca degli androidi è Hyperdean Systems, la Cyberdean è la serie dei Terminator nel film omonimo. Visto che però James Cameron è sceneggiatore di entrambi i film, può darsi che Alan Dean Foster abbia voluto fare una citazione. Quando Adzon e Vasquez scherzano dicendo qualcuno dice alieno, lei pensava che avessero detto alieno illegale e si è arrolata e Vasquez lo manda a farsi fottere. Ecco, è una gag che è composta da un gioco di parole intraducibile in italiano. Con la parola aliens, infatti, gli americani intendono anche gli immigrati illegali. L'attrice che interpretava Vasquez, Jeanette Goldstein, in un'intervista dichiarò che il suddetto gioco di parole si rifaceva ad un fatto veramente accaduto. Quando infatti lei si presentò per il provino per il film Aliens, credeva che l'argomento del film fosse proprio l'immigrazione illegale. Il personaggio di Adzon, quindi, sta in realtà sfottendo l'attrice, non il personaggio di Vasquez. Quando la truppa è in esplorazione, nel libro viene descritto l'ambientazione coperta di protuberanze ed ondulazioni. Era stata scolpita da ignote mani non umane, una versione mostruosa delle Porte dell'Inferno di Rodin. La Porta dell'Inferno, ecco, è un'opera commissionata nel 1880 allo scultore August Rodin per il Musée des Arts Decoratives. Non so se l'ho pronunciato bene, il francese per me è un po' arabo. L'artista, famoso per la statua del pensatore, vi lavorò fino alla morte, lasciando un'opera purtroppo incompiuta. Nella scena in cui Vasquez è infuriata con Burke, gli dice svegliati pendejo. Nello slang ispanico, pendejo, ha il significato di stronzo. Nello slang messicano indica invece il pelo pubico, mentre in quello peruviano sta a indicare una persona senza scrupoli. Nel capitolo 10 c'è una porta pressurizzata alla fine del tunnel e i ragazzi piazzano un cannone robot. Tutte le scene con i cannoni robot sono state tagliate dalla versione cinematografica e sono state reinserite solo nell'edizione in DVD. I cannoni suddetti vengono ripresi anche nel videogioco Alien vs Predator. Nella scena in cui Newt cade nel vuoto, nel libro il piolo le si stacca da sotto i piedi. Newt scivola e cade giù. In realtà, come si vede nel film, Newt scivola perché perde l'equilibrio a causa della scossa provocata dall'esplosione di Vasquez e Gorman. Quando Ripley va a cercare Newt da sola, l'ambiente viene descritto un corridoio in uno scenario disegnato da Piranesi e decorato da Dante. Giovanni Battista Piranesi, architetto ed illustratore famoso per le sue vedute della città di Roma. Dante, invece, non credo abbia bisogno di presentazioni. Quando Ripley, sempre alla ricerca di Newt, si imbatte in un bozzolo in cui è imprigionato Burke. Gli lascia una bomba e fugge via. Questa rappresenta la più famosa scena tagliata del film, mai reinserita in alcuna versione. Che sia stata girata lo testimonia una foto di scena in cui si vede Burke imbozzolato con davanti Ripley con sguardo duro. Anche nella storia dei fumetti Aliens Newtale, la scena viene riproposta con l'aggiunta però di una frase di Burke. L'uomo, infatti, quando si vede consegnare una granata da Ripley, le dice che non potrà mai farcela da solo. Ma la donna è inamovibile e se ne va. Infine, una curiosità notata da me. La frase storica e che tutti si ricordano escono dalle fottute pareti, in questo libro mancava. Voglio ringraziare Anna Maria Ceglia per aver dato la voce alla bambina Newt. E voglio ringraziare tutti voi che mi ascoltate, mi seguite, mi supportate. Un ringraziamento speciale va a tutti i miei abbonati che mi sostengono anche economicamente con offerta e tutti quelli che ogni tanto mi regalano un super grazie. A voi va davvero il mio ringraziamento eterno. E anche a tutti quelli che mi sostengono anche solamente con un commento, che sono ugualmente molto preziosi, perché alla fine sono i complimenti, i commenti, quelli che mi spingono a continuare a fare questo lavoro con il sorriso. Quindi io vi abbraccio virtualmente tutti, vi do appuntamento al prossimo audiolibro che proporrò. Grazie e un buon proseguimento di giornata. Ciao!